Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino, bentornati alla nostra nuova edizione. Carrè spari a uccelli protetti sulle bregonze, un denunciato nel suo freezer 41 volatili vietati. Il cacciatore è ora a tutti gli effetti considerato alla stregua di un bracconiere e dovrà rispondere di una serie di reati contro la fauna, alcuni di rilevanza penale come l'appattimento di volatili protetti dalle normative in materia penatoria. Oltre a disporre di munizioni e trappole irregolari, teneva sul gelato una quarantina di uccelli non cacciabili. Vicenza esce dal carcere e dopo tre mesi viene subito espulso. Era stato fermato con 62 dosi di cocaina ed eroina. Si è conclusa così la vicenda che riguarda la condotta spregiudicata di un extracomunitario africano di 28 anni che ieri la polizia ha ascoltato fino a Bari in vista del rimpatrio. Si tratta di uno spacciatore più volte arrestato. Ora si trova al centro di permanenza del capoluogo pugliese in attesa del primo volo disponibile per Lagos. Grisignano di Zocco, morte e sospetta di un 36enne trovato in condizioni critiche. Era ospite in casa di amici. Solo gli esiti dell'esame autoptico disposto dal procuratore di Vicenza potrà far luce sulla causa della morte di Masud Uddin, 36enne immigrato, cittadinanza del Bangladesh. L'uomo era stato soccorso domenica a Grisignano mentre si trovava ospite in casa di un conoscente per poi morire alla ricovero in ospedale. Sul corpo riscontrate lesioni sospette. Veneto, caldo anomalo, distrutte il 30% delle coltivazioni autunnali e invernali, danni per 10 milioni di euro. Il caldo di quest'inverno mette K.O. le culture autunno-vernine, fra le quali tutti i radicchi veneti, il cavolo broccolo, il cavolo rapa, le insalate, i porri, i finocchi. Per la CIA Veneto, nella nostra regione, stimati oltre 10 milioni di euro di danni e chiede soluzioni di sistema. La pagina dell'Eco nazionale è stretta al fumo, schillaci, sigarette elettroniche vietate come quelle normali. Il ministro della Salute, durante un'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera, ha annunciato di voler estendere i divieti per i fumatori. Matteo Messina Denaro, scoperto il secondo covo. I PM cercano documenti riservati. Era un bunker ben nascosto, ciò che hanno scoperto nelle ultime ore i magistrati della procura di Palermo e i carbinieri della ROS in merito alle indagini sul boss Messina Denaro. Qatargate, Panzeri patteggia un anno di detenzione in cambio di dichiarazioni sincere. Nuove informazioni per capire il modus operandi potrebbero arrivare da Pier Antonio Panzeri. Sport Coppa Italia, incredibile al Maradona, la Cremonese limita il Napoli. Dallo storico clamoroso al Cibali, all'attuale incredibile al Maradona, impresa della Cremonese, che sotto il diluvio elimina il Super Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. Si conclude così la nostra edizione. Grazie dell'attenzione. A domani.